Nell'inizio del 2022 compro una videocamera invece che l'ennesima fotocamera. Questa è una stesa che sembra pasta fatta in casa, in realtà sono triglie fatte in casa. Tutto fatto in casa. Questa è l'inquadratura di padelle vuote, ma attenzione, qui le padelle si riempiranno con le famose triglie fatte in casa e con altre strutture molto carine. La patata è partita e noi siamo già contenti. Una cosa che non vi ho fatto vedere è assolutamente la crema di mascarpone. Abbiamo fatto il caffè con la moca e abbiamo rovesciato sopra, casualmente, e poi ho fatto la scarpetta con il pandoro vero, un pandoro fatto dalla pasticceria. Olio e aglio e quindi parte il profumo. C'è anche una croce di malta fatta col pezzemolo. Buonasera amici e bentornati a questo nuovo appuntamento. Oggi, come vedete ho in mano una videocamera, videocamera e non è un errore, perché ho fatto una piccola scelta, una piccola follia, insomma un regalo di Natale usata naturalmente, perché avevo delle esigenze particolari che adesso vi spiego e vi faccio venire anche a voi un piccolo dubbio per tutti quelli che devono girare dei video come in questa condizione, cioè prolungati e quindi di risolvere in breve tempo, senza problemi, una ripresa così parlata. Allora, partiamo dalla scelta. Compro una videocamera, perché le fotocamere ce l'ho, ma come sapete le mirrorless e anche le stesse reflex scaldano molto, quindi hanno un range, io nella mia 18-20 minuti, dopodiché vanno in stand-by e tutto si ferma. Quindi io non vedendomi, almeno come oggi, cioè sono alla cieca, ho fatto un'inquadratura a occhio sperando che il fuoco e l'inquadratura vadano bene, mi porta a stare sempre con un po' d'ansia perché naturalmente non capisco quant'è che sto parlando e quindi è facile che lei si interrompa e io continui a parlare in maniera solitaria. L'esigenza nasce perché ho detto, ma se io invece trovo una condizione come si faceva nel passato, fino a qualche anno fa, compro una videocamera che la pila dura almeno tre ore, che nasce per fare riprese, quindi non scalda come i sensori mirrorless o reflex, quindi predisposta alla videoripresa. E che in più, lo vedete da voi, a parte le dimensioni, io ho questa possibilità, invece di attaccare un cavo che arriva qui al computer, aprire un software apposta per vedermi, che oltretutto mi distrae, se andate a vedere i primi video che ho fatto si vede che io mi giro con lo sguardo, proprio perché dovevo controllarmi se ero a fuoco e inquadrato, e grazie a un conoscente ho occupato una macchina che sta in ottimo stato, funziona benissimo, gira in full HD, ma come capirete anche all'interno di YouTube full HD va più che bene, può registrare tre ore consecutive a batteria, con una batteria, ma se questo mi rende insicuro attacco il cavo di corrente che è qua sotto e sto acceso almeno dieci ore. Ora, spero di non dover mai fare un video di dieci ore, però per qualsiasi cosa è un problema dimenticato. Spesa? Ottanta euro. Non ci ho manco ragionato se ho fatto bene o fatto male, se si poteva trovare meglio. Non mi interessa, mi fido della persona che me l'ha venduta, la conosco bene, è stato molto carino e gentile, l'ho provata, funziona. Quali sono i difetti di una telecamera? Allora, partiamo dal discorso importante, cioè è un modello qualunque. Questa è una Canon Entry Level, una Legria, non so come si chiama, Legria credo, 66. Ce ne sono di molte meglio, a partire da quelle che, in altre situazioni, posso stare con un mirino e quindi muovermi con più facilità, ma soprattutto sotto il sole vedo molto di più. Questa ha solo il monitor, quindi magari se state in esterno con parecchio sole, rischiate, come ho fatto io, che non si veda benissimo, ma ognuno deve comprare oggetti senza buttare soldi, quindi un pochettino ragionati, per le funzioni che vuole avere. La mia funzione era quella di evitare il cavo, come vi dicevo, evitare di andare come oggi alla cieca o evitare di comprare un monitor di supporto sopra la macchina, sulla presa a caldo si attacca un mini cavalletto da monitor e poi il cavo della macchina. Io con questa non ho cavi di niente, mi vedo, ha un autofocus, per esempio, molto più fermo delle mirrorless. Le mirrorless hanno un autofocus talmente preciso, nato per veramente ottimizzare tutto, che se io faccio un gesto rapido, cambia veramente il fuoco in tempo reale. Però spesso, se la variazione di fuoco è parecchia, si vede proprio zzzzz e quindi la sfocatura e poi torna a fuoco. Queste sono molto più lente, ma da un lato hanno un grande vantaggio, hanno un tipo di ripresa più ampia, quindi se io mi sposto e mi muovo, una volta che la macchina ha memorizzato la mia faccia e quindi ha capito l'inquadratura, non si muove così rapidamente. Quindi io non ho variazione continua di fuoco, cosa che invece ha una macchina. Certo ha dei difetti, non ha una definizione meravigliosa e performante come una mirrorless che può cambiare anche gli obiettivi. Ha un sensore più grosso la mirrorless, mentre questa ce l'ha più piccolo, quindi questo ha bisogno di più luce, va bene, ma la luce si risolve. Non ha il microfono, la presa di microfono esterno, ma molte mirrorless, molte fotocamere non ce l'hanno. Io registro, e l'ho messo qui apposta per ricordarmelo, io registro con un Tascam, quindi un registratore digitale, che volendo potrei mettere un cavalletto e parlare così. Oppure, come preferisco, attacco il lavalier che vedete qui, lo attacco nella presa microfonica, spesso in qualche video l'avete visto appoggiato sulla scrivania, chiacchiero, separatamente, quindi registro video e l'audio, e poi il montaggio lo sincronizzo. Sì, perdo quel minuto di più, ma non è un problema. Il problema più grande, la cosa più divertente, per cui mi ha fatto spendere questi soldi, e credo che ne troverò un'altra, è quella di potermi vedere, poter parlare anche per ore volendo. Un file molto maneggevole, molto malleabile quando si sta in montaggio, quindi è leggero, rapido, e soprattutto, e qui l'idea che più avanti farò un'altra videocamera, è che se io, come spesso mi capita di dover fare una ripresa come questa, ma con un'altra macchina, a una certa altezza fuori campo, che mi inquadri le mani, se sto parlando di un oggetto, voi avete bisogno di vedere il dettaglio, e quindi invece di registrare dei B-roll successivi che poi vengono montati, io vado, praticamente in contemporanea, con questa macchina leggermente fuori campo, zoom, perché ha molto zoom ottico, e in più ho il monitor per vedere l'inquadratura se ho fatta bene, quindi da solo, soprattutto per chi è come me, gira i video da solo, è un grande comfort, sapere che dura ore di ripresa, e posso togliere l'autofocus o metterlo, posso manipolare l'esposizione come una fotocamera, quindi diciamo che i vantaggi sono più dei difetti. Il sensore piccolo ha bisogno di tanta luce, la metteremo, il microfono esterno registriamo serenamente con un registratore a parte, ma anche con il telefono, voi potete infilare il microfono lavalier in un telefono, lo lasciate qui e registrate a parte, quindi non dovete comprare per forza un registratore esterno, io già ce l'avevo. Altro grande vantaggio, lo zoom ottico molto potente, quindi a contrario della videocamera, che ha escursioni più corte, la fotocamera, scusate tra fotocamera e telecamera, mentre è ciò che è normale, e quindi cambiare troppo zoom, cambia l'obiettivo, rischio di polvere, eccetera, con questa che ha uno zoom ottico molto lungo, in grand'angolo mette a fuoco da pochi centimetri, se zoom ho una zoomata notevole ottica, quindi non perdo qualità, non è male per niente, è molto pratica, anche a una festa, una vacanza, infilo la mano, metto rec, veramente la posso passare a qualcuno, anche che non è un campione di ripresa, riesco con la stabilizzazione che ha dentro, sentite? Questo è il sensore che si muove, quindi è molto ben stabilizzata, ha una grossa zoomata, l'apertura del diaframma è massima 1,8, quindi ha tutta una serie di fattori che io avevo, diciamo, preletto, che non sono male, vista la spesa, credo che da oggi in poi, già in realtà l'avete già vista, non sapete che era, ma insomma l'avete già vista in molti video, mi sono divertito, mi diverte perché è pratica, e alla fine riesco a fare una ripresa più facile, più lunga, e quindi a parità di tempo, posso registrare magari due video diversi, sempre lasciando accesa la macchina, mentre con la mirrorless, devo ricordarmi che entro poco dovrò smettere, perché la macchina si surriscalda e va in stand by. Grazie per l'acquisizione che mi avete dato, grazie per l'ascolto, magari può essere comoda, si trovano veramente a tutti i prezzi, io l'unica cosa che vi consiglio è, non comprate macchine sotto il Full HD, ormai sono un po' obsolete, va bene? Grazie di tutto, e arrivederci alla prossima! Ciao!